ok allora ciao ragazzi mi sono appena accorto che praticamente sul canale youtube ci sono i video sfalsati quindi ne approfitto oggi per fare un video così un po particolare per proporvi un articolo che ho scritto con una sorta di intervista per il blog di domenico versano che lo ritrovate tranquillamente anche su facebook sotto la dicitura skeptical dragon ma potete trovare tranquillamente anche su google se scrivete skeptical dragon anche un sito di riferimento è un po un'intervista che ho fatto qualche tempo fa dove un po cerco di dare qualche risposta su quello che è la tipologia dell'allenamento che seguo io perché utilizzo una metodica perché faccio una cosa piuttosto che un'altra e penso che ci possano essere molti spunti interessanti da cui poter prendere qualcosa ad applicarlo ai propri protocolli dopo logicamente considerate che appunto essendo un'intervista non vuole dare una risposta a tutta ma piuttosto cercare di essere un quadro generale di quella che è la mia idea dell'allenamento ed è perché preferisco portare in avanti in un modo piuttosto che in un altro ok quindi spendete dieci minuti della vostra vita perché ve lo consiglio a leggere questa intervista e ci vediamo come al solito domani per un nuovo video sull'allenamento ciao ragazzi